Finalmente vi conosco Diego Tardagna e Luca Boncompagni, nuovi Chief Creative Officer WLM Guayanar, ma la notizia insomma l'avevamo già data, infatti l'occasione è proprio per venire ad approfondire un po' tante curiosità e chi siete. Partiamo dalla prima, come avete conosciuto Simona Maggini? Insomma vi conoscevate già, è stata frutto di una ricerca d'occa, raccontaci tu. L'incontro con Simona è avvenuto in maniera diciamo non casuale perché io ho avuto il piacere di conoscerla circa 13 anni fa quando ho cominciato appunto qui, lei aveva un ruolo ovviamente non avevo un altro e tramite questa conoscenza ha chiesto a noi di incontrarci, non separatamente, cosa della quale eravamo molto contenti tutti e due, noi siamo andati da lei con diciamo più che per ascoltare, già con un'idea molto chiara di quello che ci sarebbe piaciuto fare qualora avesse scelto noi, forse si è convinta, quindi è andata così, questo è un po' il tutto e lei si è convinta e dopo poco ci ha dato la possibilità appunto di venire qui e cominciare con lei e con altre 80-100 mila persone questa nuova avventura. Diego appena quarantenne e Luca addirittura di anni ne ha soli 36, insomma svecchiate la categoria dei Chief Creative Director, una bella sfida. Sì, ed è esattamente quello che stai dicendo, nel senso lo prendiamo come una sfida, una sfida da non prendere sotto gamba, diciamo che non ti nascondiamo che ci sentiamo un po' tutti gli occhi del mondo puntati addosso, nel senso questa è una cosa un po' che la sentiamo come peso sulle spalle, ma faremo quello che abbiamo sempre un po' fatto, cercheremo di far parlare il lavoro più prima dell'età, quindi diciamo che l'età è un numero e proveremo a far parlare il lavoro, questo sarà il nostro impegno e la nostra sfida più grande. Intanto ricordiamo anche un'altra peculiarità, voi siete coppia, coppia da 13 anni, insomma anche qui in WLML, WNR era da tempo che vedevamo invece Chief Creative Director singoli, poi ci direte anche il perché avete scelto la coppia e una coppia che ha lavorato anche molto all'estero, ecco come impatta questo sulla vostra creatività, sul vostro modo di intendere il lavoro, ma anche su quello che potrete fare per una sigla come questa? Le nostre diverse esperienze all'estero, che sono durate anche un bel po', hanno senza dubbio dato a noi modo di vivere culture diverse e vedere anche approcci diversi. Quello che effettivamente abbiamo maturato è stata più la, come dire, consapevolezza di una nostra filosofia, cioè non esistono creativi o agenzie che lavorano per i brand, ma quello che vogliamo è avere un gruppo di persone e un'agenzia che lavora con il brand, non avere due enti separati, ma fare squadra insieme per cercare appunto di raggiungere degli obiettivi che siano quanto più rilevanti sotto diversi punti di vista. E traducendo tutto questo in obiettivi di business e qualitativi, come li raccontereste? Noi non ci diamo questi due obiettivi, perché significherebbe per noi avere dei brand sui quali ti concentri più sulla qualità, come se fossero brand vetrina, e dei brand sui quali ti concentri con degli obiettivi quantitativi, che significherebbe più, come dire, portarli o considerarli in maniera diversa. Qual è il vostro stile, insomma, di direzione creativa? Che tipo di leadership esercitate avete e qual è il vostro rapporto con la squadra? Allora, questa è una domanda che è molto interessante dal nostro punto di vista, perché fa un po', da un po' in là per quello che abbiamo sempre pensato di volere essere come direttori creativi, quindi abbiamo sempre detto, ok, che tipo di direzione creativa vuoi diventare, qual è il tuo stile, se tu dovessi diventare direttore creativo, qual è il tuo stile che porteresti alle persone, uno stile che si basa sulla sostanza e sul lavoro, è la risposta che ci siamo sempre dati tra me e lui. Questo vuol dire che ci piacerebbe, cioè la nostra ambizione, il nostro sogno, la nostra aspettativa rispetto alle persone è che loro ci guardino e ci ascoltino per merito e per quello che esprimiamo, più che per la sigla che portiamo e questo secondo noi è una sorta di principio democratico fondante del motivo anche per cui siamo insieme, il confronto, però continuiamo a dire che quella è proprio la nostra visione, cioè vedere alle persone, vedere proprio, ci aspettiamo che le persone guardino su e dici, ah ok, è giusto questo che stanno dicendo, è corretto e per quello guadagnarsi un po' il rispetto e l'udito, le orecchie dei team che abbiamo sotto. Questa è la nostra leadership, questa è la nostra intenzione creativa. Ai fini del buon funzionamento vostro, della squadra, quindi di un buon lavoro, di un'ottima creatività, quanto conta il contesto e perché WLM Wiener ha convinto voi? Il contesto è importantissimo, nel senso che fa riferimento ovviamente a tutta la parte di quanto un'agenzia è preparata sotto diversi punti di vista, da un reparto o dall'altro. quello che però maggiormente ci ha convinto al di là della continuità del nostro percorso insieme è stata l'energia che ha manifestato Simona dall'inizio ma che si è appunto, come dire, addizionata all'energia che abbiamo trovato qua dentro. I ragazzi sono veramente tutti, 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 dal primo all'ultimo estremamente motivati e estremamente pronti a veramente fare di tutto per accelerare il passo. C'è tanto lavoro da fare ma penso sia una grande... Non ci ha mai spaventato il lavoro, diciamo abbiamo sempre, l'energia l'abbiamo sempre messa al 110% e continueremo a farlo e questo è quello che prometteremo alle persone che lavoreranno con noi. Chi è oggi un'agenzia creativa, insomma, anche cosa deve diventare, come deve evolvere il suo ruolo? Per noi l'agenzia oggi è forse una visione un po' utopistica ma noi ci crediamo e quindi come abbiamo sempre fatto rispetto alle cose in cui crediamo metteremo tutti gli sforzi per arrivarci. Per noi oggi è un'agenzia che parte da un problema di business, da un need di business dei brand, dei vari clienti e arriva al punto da non aspettare più un cliente nella fase di briefing. Non è più un ruolo di essere a disposizione nel momento in cui c'è un need ma lavorare prima con il cliente nel momento in cui c'è un'esigenza di business e su quello addirittura andare in maniera proattiva e quindi andare quasi in anticipare, quasi anticipare i clienti nei loro need, al limite di creare addirittura un prodotto se serve. Quindi è più un ruolo di, stando di fatto che c'è un'esigenza io posso suggerire prima ancora che il cliente venga da me, che un brand venga da me e da Diego, quello che c'è bisogno di fare, nel senso quindi andare proprio, quasi anticiparli. Quello darebbe un ruolo quasi di hub creativo di business perché ricordiamoci, lo diciamo sempre, non facciamo gli artisti, nel senso gli artisti fanno cose completamente diverse. La nostra creatività ha un purpose, il purpose è il business, quindi quello deve essere ovviamente tutto legato e questo è un po' l'obiettivo che ci piacerebbe perseguire. Un'agenzia che vada in, che diventi quasi un po' più il cliente del cliente, questa è un po' l'idea, è quasi un po' topistica ma ci crediamo, ci vogliamo credere, questo è un po' il nostro punto. Ma ce l'avete un sogno nel cassetto? A parte la Roma che vince la Champions, che per carità è in assoluto il primo, diciamo che quasi tutto, quasi tutto, quello che pensavamo di realizzare sta succedendo, nel senso che anche ricoprire una figura come questa in coppia è un sogno, nel senso che siamo in altissimo, non si può nemmeno dire però, come dire, siamo che più in alto non si può e siamo insieme. Continuare insieme è già un, come dire, chiamiamolo obiettivo, è comunque insomma ecco, o sogno o obiettivo, però continuare insieme credo sia quello il senso. Sì, comunque nella scala delle priorità ha messo prima la Roma che vince, quindi mettiamola in chiaro, nel senso che è giusto, al cuore non si comanda.